Da vicino le ricerche scientifiche anche loro si concentrano di più, quindi se andiamo a chi ha pubblicato ricerca su questi argomenti soprattutto usa la parola agility e dice che è una abilità di cambiare direzione velocemente, poi diventa abilità di cambiare direzione velocemente e in maniera accurata, questo già ci interessa di più, e poi di cambiare posizione e direzione con tutto il corpo, movimenti rapidi e cambiando direzione, quindi iniziamo a capire quello che dicevamo prima, anche nella comunità scientifica l'agility è riuscire a cambiare direzione velocemente e essere rapido a fare questi movimenti abbastanza specifici. Il termine quickness di solito è usato come sinonimo, quindi trovate o agility o quickness, si trova anche cutting in inglese, tagliare, che per noi che veniamo dalla palacanestro è abbastanza intuitivo capire di cosa si parla, e le ricerche un po' più recenti, che non sono le ultime che vedremo dopo, parlano di agility e ancora una volta come capacità di descrivere movimenti sportivi, reazioni che coinvolgono tutto il corpo. C'è qualcuno che sta disegnando con la lavagna, finché sono strisce gialla e niente, magari non copriamo, cercate di non coprire tutte le slide. Veniamo a quella successiva. Allora, sfatiamo qualche piccolo mito e qualcosa che potrebbe iniziare a farci ragionare un po'. Ci sono ricerche che dicono che l'allenamento tradizionale di forza e di potenza non è così correlato a migliorare i cambi di direzione. Ok? Questa ve la lascio lì così che la riprenderemo alla fine. Comunque già ci vediamo come la forza e la potenza, non ci sono ancora legati alla... vediamo un po'. L'altro argomento, la rapidità dei piedi. Noi tutti siamo molto legati a questo aspetto. Voi allenatori siete molto attenti a questo aspetto ed è un modo che usiamo anche per confrontarci. Ci si dice, quel giocatore ha piedi rapidi, quella ragazza ha piedi buoni, quello ha piedi lenti, come faccia a migliorare la rapidità dei piedi. Quindi è un nostro modo di dire rapidità dei piedi. Quindi usiamo questo modo di dire appunto per qualificare qualcosa. Però abbastanza provocatoriamente vi dico che per me è questa la rapidità dei piedi. Quindi quando mi dici rapidità dei piedi mi viene in mente il nomino della team che muove i piedi molto velocemente e rimane lì però. Quindi non voglio dire, e qui prendetemi, capitemi bene, che questi esercizi, questi esercizi non servono. Vedremo che sono fondamentali, importantissimi e avranno una collocazione. Però rapidità dei piedi fino a se stessa è un primo step di un percorso lungo e non possiamo pensare di avere campioni del mondo di corda o campioni del mondo di scaletta di speed ladder e avere dei giocatori che siano allo stesso tempo veloci in campo. Non funziona così. I piedi mi servono per muovermi a baricentro velocemente sul campo e in maniera però abbastanza specifica. E quindi se io sono tanto rapido a fare line step su una striscetta, benissimo, ho sensibilizzato i piedi, mi serve a mille scopi, ma non c'è correlazione fra quella rapidità e poi la rapidità tecnica che richiedete voi allenatori in campo a scivolare velocemente piuttosto che a partire velocemente. Altro aspetto, la corsa, no? La corsa è un aspetto di cui parliamo molto. Come per la velocità dei piedi, spesso si dice quello sa correre, quell'altro non sa correre. Quindi guarda quello, bisogna insegnarle a correre, quel giocatore ha una bella corsa. è un altro aspetto che qualifica i giocatori. Allora, sicuramente come per la velocità dei piedi e specialmente con il settore giovanile è fondamentale sviluppare questo schema notorio, insegnare ai nostri ragazzi come si corre, fargli usare i piedi nella corsa. Sicuramente è un aspetto da curare in maniera dettagliata. Però non possiamo pensare che ci basti correre, che andiamo al campo a scuola a fare le ripetute sui 100 metri e i nostri giocatori diventano forti a correre in campo e la rapidità è la capacità di sprintare. Perché in campo succede tutt'altro, no? Quindi in questo fotogramma che ho affermato ci sono giocatori in posizioni diverse, giocatori in posizioni diverse. È vero che ho barato un po' perché se avessi preso Bolt quando è alla partenza dai blocchi o nei primi due passi sarebbe stato un pochino più simile a questi giocatori. Però, se Bolt, o chi per lui, per avere questa perfezione di corsa, perché insomma niente di più bello in natura di questo modo di correre, ha bisogno di alcune caratteristiche particolari, quindi tenere ad esempio il baricentro molto alto perché deve volare sulla pista, fare dei tempi di contatto a terra brevissima, sapete che un centometrista ha tempi di contatto attorno ai 100 millesimi in secondi, proprio una cosa velocissima, falcate molto ampie. Adesso qui è fermato in questa posizione, ma il tallone ogni volta fa un'evoluzione che arriva fino a sfiorare il sedere ogni volta, quindi è tanto con due piedi in aria e ogni tanto tocca uno e cerca di farlo il più frequentemente possibile con tempi di contatto velocissimi. Qui, nonostante appunto stiano accelerando, però vedete che hanno due piedi vicini a terra, quasi tutti, la gamba dietro è sempre abbastanza bassa e il busto è molto flesso in avanti. Questo che probabilmente sarà vicino a metà campo è già ruotato, ma ancora sta cercando di andare basso. Questo ha le gambe che vanno in questa direzione e il busto è girato di qua. Lui ovviamente ha una palla, quindi cambia tutto. E quindi capite che questi qua, pur facendo uno sprint, dopo la metà campo, quindi in questa zona qua, probabilmente dovranno aver già frenato, cambiato di direzione, o fatto un taglio, aver fatto qualcos'altro che il campo gli impone. Non sanno neanche loro cosa succederà, perché ovviamente è un gioco di situazione. E quindi, di fatto, un giocatore di palacanese non corre, perché la corsa è qualcosa di ciclico, che è sempre uguale a ripetitiva, ma qui c'è qualcosa di diverso ogni passo. È raro che facciano 3-4 passi uno uguale all'altro e succede solo in un'azione, quando vado in contropiede, ad esempio, in tutto il gioco a metà campo, in tutte le altre situazioni, è raro che ci sia una corsa vera e propria. Non devono saper correre? Ancora, non sto dicendo questo, sto dicendo insieme a capire quanto è specifico il nostro sport. E dopo un po' di anni che dicevo queste cose, ho trovato questo video, magari molti di voi l'hanno visto, che mi aiuta un po' a spiegarvi. Adesso che non siamo in campo, mi viene ancora più utile per farvi capire un po' di cose. È un video che hanno fatto su quei canali scientifici di Sky, che mi fa vedere, hanno fatto una prova fra Cristiano Ronaldo e questo Rodriguez, che era uno spagnolo, uno spagnolo, campione spagnolo di 100 metri, e li hanno testati su questi due percorsi diversi. Quindi avete uno sprint di 25 metri e un percorso al zigzag attorno a questi pali. Hanno scelto uno dei giocatori più rapidi di calcio e il più rapido di Spagna a correre dritto per capire un po' qual è la differenza. E vengono fuori un po' di cose, scusate, che ci aiutano a ragionare insieme. Quindi, ok, questi sono dei percorsi, presentano chi è lui, presentano, e adesso iniziano, iniziano a testarli. Ok. Novanti perché... Ok. Parte velocista. e questa è la sua corsa. Vediamo come corre. Adesso lo faranno rivedere. Ha fatto 3.1 di tempo, ci interessa poco. E vediamo come andrà adesso a rallentatore per capire un po' come corre. Vedete? Eccolo qua. Parte. fa una partenza esplosiva, raggiunge la velocità massima a metà del percorso e vedete che falcata lunga, quanto è dritto. Il suo movimento è su una linea stretta, non c'è nessun tipo di oscillazione laterale. Vedete che roba? Quindi lui è su questa linea e ha una per niente oscillazioni laterali. E così ha ottimizzato la sua corsa per non disperdere energie dal lato a lato, ma proiettare tutta la sua forza dritto per arrivare prima degli altri avanti. Il suo baricentro è molto alto. Vedete? L'azione delle ginocchia è a ginocchia tanto alte e la sua lunghezza di passo è molto lunga. Sono due metri e mezzo di lunghezza. Vedete? Uso degli arti su questo piano, ginocchio alto, grande fase di volo. È costruito per vincere medaglie andando dritto. Ok? È perfetto per fare quello che sa fare. Adesso vediamo Ronaldo come corre. Ok? Ok. Già adesso capiamo che è una corsa completamente diversa. piacerebbe vedere un giocatore di basket ogni giocatore corre diversamente però è già uno stereotipo un po' più vicino al giocatore di uno sport di squadra anche se è totalmente diverso per chi viene ad un altro sport. Quindi cerchiamo di capire cosa serve a noi per analizzare il suo modo di corso. Ecco, vedete come muove già come si muove la lateralità no? Quindi fa più frequenza a passi più frequenti e inizia ad andare laterale molto presto. Dicono anche che la parte di partenza quindi la parte di sforzo sforzo di iniziare non è tanto differente perde un po' di tempo rispetto al velocista verso la fine nella seconda metà ok? E lo stile è completamente diverso ok? Guarda verso l'alto cerca di avere frequenza vedete come oscilla lateralmente? Questo fatto di oscillare lateralmente è tutta energia che perde rispetto al piano sagittale nel quale vuole andare quindi se io voglio andare dritto e mi muovo lateralmente sicuramente sono meno efficiente a correre dritto. Ma c'è un Ma e c'è prima vediamo un attimo la lunghezza del passo che ci fanno vedere ecco qua la sua lunghezza di passo è molto più corta l'altro va a due metri e mezzo lui ha un metro punto sette è nettamente più corta ma questo perché? Perché lui corre con tutti e due i piedi vicino a terra non ha le ginocchia alte ricordate che ginocchia alta aveva l'altro? lui ha le ginocchia molto basse il piede dietro vi ricordate come era alto dell'altro? Lui ha sempre il piede vicino a terra perché per lui funziona così lui in campo deve cambiare senso, direzione azione ogni pochi metri e quindi ha grande vantaggio a rimanere con i piedi a terra col baricentro basso se lui si facesse trovare col baricentro alto con un piede solamente a terra come fa a frenare? avrebbe una grande difficoltà nel frenare a cambiare direzione a fare tutto quello che gli sport di situazione richiedono ok? Adesso vediamo invece cosa succede nello zigzag che ovviamente è il territorio in cui un giocatore di sport di squadra è più familiare no? Parte velocista vediamo molto potente e quindi molto veloce ma iniziamo a vedere una tecnica diversa che dopo vedremo a confronto anche qui per quanto cerchi di abbassarsi rimane abbastanza alto e vedete come fa per frenare usa in parte questo piede rimane abbastanza alto e questo piede carica per frenare ed è da solo quello che dovrà fare tutta la spinta quindi questa gamba per quanto potente fa dico l'80% del lavoro 90% del lavoro esagero forse però ne usa una andando giù e tornando su ok? Vedete la difficoltà anche che ha nel ruotare il busto nell'essere nel svincolarsi attorno a uno spazio quanto è costretto a passare largo perché non è abituato ad abbassarsi e ruotare col busto tante caratteristiche che uno che è abituato ad andare dritto fatica a fare no? Adesso vediamo Ronaldo che fra l'altro ha una tecnica tutta sua ma ok il tempo è questo ok guardiamo come parte ed ecco qua completamente un'altra roba no? Sembra uno slalom dello sci vedete quanto è più basso vedete quanto i passi sono più corti lui fa il velocista faceva uno due passi in mezzo a paletti Ronaldo ne fa tantissimi e guardate quanto usa due piedi insieme tanti passi per abbassare il baricentro passare vicino al paletto adesso lo rivediamo ovviamente è più veloce ma non interessa poco i tempi ci interessa capire come si muove addirittura arriva con degli arresti a un tempo a due tempi ma molto basso e guardate boom 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 vi da l'idea che siano dei passi pesanti che ci metta tanto peso perché sono meno passi e deve assorbire la forza in tanti passi e in pochi passi Ronaldo fa pochi passi e li usa in maniera frequente per fa un salto addirittura per restarsi vi ricordate quello che dicevamo prima lui usa tutti e due i piedi per frenare e addirittura tutti e due per riaccelerare quindi ha un vantaggio da quel punto di vista ok è come se saltasse dentro al movimento questa è la grande differenza vedete lui sta praticamente usando due piedi insieme lui si impianta ne usa uno e lui è già pronto guardate l'inclinazione maggiore il balicentro più basso ok ok comunque senza continuare sul video l'idea voleva essere questo è un calciatore noi alleniamo giocatori di basket l'idea voleva essere che questi movimenti sono specifici e quindi essere rapido in cambi di direzione è un movimento in cui la tecnica esecutiva rientra parecchio e quindi allenare i nostri a correre dritto va bene all'inizio allenare i nostri a correre come decentometristi se sono ragazzini perché no perché è una qualità che devono avere anche quella ma sicuramente è un pezzo piccolo della figura generale perché noi ci serve fare tutt'altro questo qua che è un velocista per il suo sport non è assolutamente interessato a frenare non gli interessa frenare ha tutta una curva per frenare non è assolutamente interessato a fare dei cambi di direzione se qualcuno di voi ha sentito le interviste di Bolt quando si era messa a giocare a calcio ha detto diceva nelle prime interviste pensavo che fosse tutto molto più facile essendo veloce ma quando c'era da frenare da fare qualcosa con la palla a cambiare di direzione era un problema quindi veloce sì ma è tanto tanto specifico il nostro gioco ok? quindi ci tenevo a farvi vedere questo perché ci ha aiutato un po' a capire detto questo adesso però vi dico anche siamo sicuri che fino adesso abbiamo parlato di agility ok? quindi abbiamo parlato di agility o abbiamo parlato di rapidità con cui si cambia direzione perché? perché già già negli anni 70 questo studioso ci iniziava a dire guardate classifichiamo l'agility a seconda di alcuni aspetti che la caratterizzano quindi se l'agility semplice non ci sono incertezze né spaziali né temporali quindi un ginnasta che deve iniziare la sua routine deve essere veloce a fare tutta la sua routine sa esattamente cosa deve fare quando lo deve fare può partire al suo via quindi deve essere molto rapido ma non ha vincoli né spaziali né temporali cambia qualcosa se ad esempio ho una variabile temporale il centometrista sa benissimo cosa deve fare come deve fare percorre però almeno la variabile temporale è un po' più incerta perché deve aspettare uno sparo da pistola prima di partire alcuni sport o alcune azioni di alcuni sport mi viene da pensare appunto come dicono qua nella ricezione di un servizio della palla a volo io so benissimo quando l'avversario servirà perché dopo il fischio dell'arbitro lo vedo che prende la palla pronta per fare servizio ma non so dove cadrà la palla quindi la incertezza diventa spaziale il vinco diventa spaziale e poi gli altri sport come il nostro o quello che interessa a noi in cui la parte incerta è sia quella spaziale che temporale noi non sappiamo quando e in che posizione del campo dovremmo essere rapidi ok quindi già questo ci fa pensare a qualcosa in più che dobbiamo considerare poi è venuta fuori questa ricerca nel 2006 di questo gruppo dei australiani di Shepard e Young che secondo me è stata una pietra miniare perché ha iniziato a dire guardate la definizione la nuova definizione di agility non può non considerare un aspetto cioè che agility si deve essere un movimento rapido di tutto il corpo con cambio di velocità e di direzione ma in risposta ad uno stimolo ok quindi perché sia agility ci deve essere uno stimolo perché altrimenti parliamo dicono loro i cercatori di codes cioè di change of direction speed per codes intendiamo la velocità con cui si fanno cambi di direzione quindi quello che abbiamo detto fino adesso fa capo a codes più che agility ok quindi questa queste parole aggiunte cambiano completamente il paradigma quindi per essere rapido devo essere rapido sì a muovermi sì cambiare direzione sì ma in risposta ad uno stimolo negli anni ho trovato quest'altro video che mi aiuta a spiegare questa cosa un video fatto un po' così ma sicuramente aiutava a spiegare questa ricerca che dopo vi farò vedere e gli autori di questo video sostengono che questa cosa qua è impressionante no? questo qua addirittura sulla sabbia la sabbia ci rallenta e lui riesce a essere così mostruosamente veloce sulla sabbia è una cosa veramente impressionante ma per quanto sia incredibile questa rapidità è applicabile a questo? è applicabile a questo genere di rapidità in cui questi giocatori di football americano ad esempio spostano con la finta sono rapidi in reazione a qualcosa che succede in campo quindi lui ci fa vedere un po' di ricerca la ricerca che abbiamo visto adesso noi quella di Sheppard degli Anchi di cui dicevo e appunto viene fuori questa definizione che avete appena visto di cui dopo parleremo bisogna essere veloci in risposta ad uno stimolo non ci basta essere solo veloci se la parte di stimolo o la parte di situazione non c'è non si può classificare come agili ok? quindi uno stimolo si riferisce a qualsiasi variabile esterna che fa sì che io riesca appunto a reagire a qualcosa dopo entriamo nel dettaglio se attacco o difesa però ad esempio qui Kevin Durant applica uno stimolo c'è la reazione la decisione e poi c'è l'azione in reazione a quella che ha visto a quella che è successo se no faceva sfondamento quindi questa secondo questi autori può essere definita agility quest'altro rimane per quanto rapido cambio di direzione ok? quindi iniziamo a separare le due cose agility e change of direction ok? quindi detto questo fermo un attimo questo video perché non ci dice più cose che ci interessano ci fu una prima ricerca del 2002 che ancora parlava di velocità nei cambi di direzione che l'hanno bypassata e questa che vedete adesso è una ricerca appunto scientifica fatta da loro è una review su 11 studi che hanno studiato questi aspetti e loro sono arrivati a una soluzione abbastanza radicale che voglio discutere con voi quindi agility in invasion sport questo è uno studio australiano appunto e per invasion sport intende sport di invasione cioè non solo sport di squadra di situazione ma nei quali una squadra debba invadere un territorio per fare gol neta canestro e l'altra squadra debba difendere il proprio territorio ok quindi è un po' quel palacanestro è assolutamente uno sport di invasione e dicono che gli aspetti che caratterizzano l'agility in questi sport sono cognitivo ok ed è uno dei più importanti probabilmente il più importante cioè il fatto di avere la capacità di decidere con velocità e accuratezza cosa fare quello dicevamo prima c'è uno stimolo di dover decidere ed è fatto dal visual scanning sul quale non entriamo adesso la parte visiva la abilità di vedere c'è l'avergenza l'accomodazione la visione periferica sono mille cose che adesso non mi interessa entrare ma anticipazione sì la capacità di anticipazione è una capacità coordinativa è fondamentale ed è la capacità che io ho di capire di riuscire a capire prima quello che starà succedendo dal punto di vista delle miei schemi motori quindi delle informazioni che riesco a processare velocemente accolte dall'ambiente esterno per essere veloce nell'applicare un movimento pattern recognition questo è fondamentale sarebbe il riconoscimento di un pattern mettetevi nei panni del difensore che deve capire cosa sta facendo l'attaccante uno può essere un difensore veloce quanto vuole se è il primo mese che gioca a pallacanestro si fa battere tutte le volte perché al di là delle difficoltà tecniche ma non riesce a riconoscere i pattern che vede davanti cioè non riesce a capire cosa sta succedendo perché se difendete se giocate contro il miglior contro Kawhi Leonard ha voglia di fare a farle finte questo non abbocca mai lo volete muovere questo non si muove al di là della sua grandissima capacità fisica lui ha visto migliaia migliaia di movimenti sa esattamente come funziona il movimento del tiro dell'attacco e anche in maniera automatica riesce a riconoscere un pattern che gli si presenta davanti e che succederà così come l'attaccante quando inizia a giocare con il difensore riesce a capire prima quando si sbilancerà capire e in maniera quasi riflessa automatica non sono processi capitemi bene cognitivi che lui dice ok vado lì perché quello ha messo il piede davanti inizialmente è così dopo diventa quello che voi chiamate istinto ma non è istinto è anticipazione e ricognizione del fatto vado avanti ovviamente capacità fisiche ma vedrete che hanno un impatto non così decisivo proprio sull'agility strettamente detta non voglio dire che non siano importanti sono quelle sulle quali lavoro quotidianamente da preparatore ma vedremo dopo cosa si intende e la parte tecnica ma non tecnica fondamentali tecnici che vengono dopo ma come applicare i movimenti ad esempio come accelerare dove spingere con i piedi per accelerare come stare giù bassi in posizione come meglio scivolare come tenere il busto tutti quegli accorgimenti tecnici di movimenti di come mettere i passi che sono decisivi possono essere insegnati ed io chi mi ha visto allenare o parlare a qualche click negli ultimi anni sa che questa è la cosa sulla quale batto molto anche dal punto di vista di preparatori fisici i preparatori fisici non devono fare palacanestro ma possono aiutare tantissimo nella tecnica di quei movimenti che vengono prima della palacanestro quindi qui c'è un mondo da allenare ancora prima di avere una palla in mano o di fare un controllo è chiaro questo perché è abbastanza nuovo come metodo di pensare una volta si pensava rapidità è sprinta e fai cambi di direzione benissimo vedremo che sono fondamentali ancora quelli ma c'è tanto altro ed è tanto altro legato alle capacità coordinative quindi quelle più nobili quelle più meno meno fisiche in maniera grezza e più dell'abilità talento sistema nervoso fanno a capo a questo mondo leggermente diverso qui vado veloce perché sono ricerche non voglio stufare comunque queste ricerche dicono che appunto che l'agility e il change of direction sono due abilità indipendenti ok quindi viene fuori da queste ricerche che hanno visto che il fatto di essere veloce a fare dei cambi di direzione e il fatto di essere veloce in campo a spostare il mio attaccante a muovere in maniera agile come avete capito che intendo adesso sono due abilità che non hanno tanta correlazione anzi sono quasi indipendenti se vediamo qua qui ci sono delle capacità fisiche come la capacità di accelerare su 10 metri su 10 metri che ha poca scusate poca correlazione con l'agility e più correlazione con la capacità di cambio di direzione la forza massima di uno squat ha grande correlazione ancora una volta con i cambi di direzione grande o piccola sono solamente due studi perché gli studi ancora sull'agility non è che sono così tanti perché è difficile testare l'agility però ha pochissima correlazione con l'agility così come la forza esplosiva moderata correlazione con i cold e più con l'agility è anche quella reattiva quindi di fatto questo schema ci dice le qualità le capacità fisiche anzi se lo dice meglio questo quindi le capacità fisiche che sono queste accelerazione forza potenza forza reattiva hanno grande correlazione con i cambi di direzione ok quindi se io ho forza e sono veloce sicuramente ho grande probabilità di influire in maniera positiva sui cambi di direzione ma quando parliamo di agility la correlazione c'è ma è molto più bassa quindi il fatto di muovere un avversario e capire quando partire ha a che fare molto più con la parte cognitiva che non con la parte fisica strettamente detta e questa è una cosa che sono importanti da capire ok quello quello che dicevo altre non voglio stufa questa è una preparazione una presentazione preparata per i preparatori noi preparatori siamo abbastanza legati alla ricerca scientifica ma siccome ci sono tanti allenatori vado un po' più veloce sulle ricerche quindi veniamo ai due gruppi a definire due gruppi di qualità di cui abbiamo parlato finora i codes cambi di direzione che tipo di azioni sono sono prepianificate ok attorno ad ostacoli o linee ad esempio quindi prepianificate perché se chiedete a Ronaldo o al velocista fai zig zag attraverso i pali e fai più veloce possibile sei veloce a fare una cosa che conosci che sai esattamente quando e come dovrai applicare quella velocità e quindi sono abilità chiuse ok si chiamano abilità chiuse quelle che sono precodificate perché so quando succederà il cambio di direzione e sono molto rare o non esistenti negli sport di invasione a me non vengono in mente neanche una mi viene in mente il baseball ma non è neanche uno sport di invasione in cui so esattamente come e quando dovrò cambiare forse neanche lì ma non voglio parlare di cose che non conosco invece nella l'agility intesa come abbiamo detto adesso ha questo tipo di reazioni un difensore che deve reagire ad un attaccante un attaccante che reagisce al movimento del difensore un giocatore che reagisce al movimento del compagno di squadra perché a seconda di dove va il mio compagno di squadra io agisco in relazione alla palla e non so né come né quando scusate né dove né quando dovrò essere rapido molto spesso è il campo che me l'ho detta è la situazione che me l'ho detta e quindi devo essere così veloce e plastico a cambiare il mio piano che non può essere preprogrammato o meglio può essere anche preprogrammato ma deve prevedere la possibilità di cambiare durante l'azione e durante l'atto quindi detto questo possiamo riassumere con agility e code sono abilità diverse ok questo è il riassunto di quella ricerca che dicevo prima del 2015 nel basket quindi nei sport di invasioni è richiesta agility piuttosto che velocità dei codes l'agility coinvolge movimenti sport specifici con reazioni accurate e quindi c'è la capacità di anticipare l'azione si parla che si dice che un attaccante deve mettere in pratica delle tattiche evasive mentre un difensore deve mettere in pratica delle tattiche di riconoscimento dei cues dicono gli americani degli indizi che ti fanno capire cosa farà l'attaccante quindi è un gioco di lettura fine anche l'uno contro uno non per non parlare quando si parla 2 contro 2 3 contro 3 o 5 contro 5 abbiamo visto che le qualità fisiche sono più importanti per i codes che non per l'agility e l'agility va allenata con stimoli sport specifici ad esempio qui si parla di SSG che sono small side games che nel calcio vanno molto in moda ma noi in appare canestro li facciamo dalla notte dei tempi small side games non sono altre che 2 contro 2 3 contro 3 giocare con regole diverse tipo senza passaggio con voi allenatori ne conoscete un milione di situazioni che vadano in questa direzione molto meglio di chiunque altro quindi la domanda finale di questo è allora ci hai detto che agility è una cosa codes sono altre ma allora perché la forza funziona ancora la potenza va ancora allenata la rapidità quindi se assolutamente sì non voglio cadere in questa trappola non pensiate che siccome alcuni di questi aspetti non sono così direttamente correlati al momento in cui prendo quella decisione la direzione non devo allenare la forza la potenza la rapidità vi dico già che specialmente per noi preparatori queste continuano ad essere la gran parte del lavoro la maggior parte se non tutto il lavoro che facciamo noi ok quindi queste hanno dignità hanno valenza hanno importanza primo perché qualificano gli atleti di alto livello e quindi queste ricerche sono state fatte su atleti di alto livello se tu non hai dei livelli di forza potenza rapidità di un certo di un certo livello non puoi essere far parte di quel gruppo di atleti che poi fa parte della ricerca quindi va da sé che già un livello alto di queste capacità deve essere possedute per poi poter essere testati e poi perché sono importanti per altri motivi rispetto all'agilità quindi per tutti i movimenti sono sicuramente fondamentali perché io non hanno magari influenza sul momento della scelta ma hanno influenza se io ho il primo passo più potente e riesco a scegliere velocemente sicuramente avrò un grande vantaggio se devo saltare alla fine per tirare come un imbalzo sono tutte cose che rientrano in assoluto su questo però c'è la parte che vi dicevo prima che secondo me diventa crusale e invito tutti quanti a ragionare sul fatto che questo è un aspetto che specialmente da preparatori insieme a voi allenatori dobbiamo considerare quello che dicevo prima la tecnica dei movimenti quelli che con Andrea Capobianco chiamo prerequisiti dei fondamentali mi piace moltissimo il sistema di Andrea il lavoro integrato perché chi di voi l'ha sentito parlare di lavoro integrato sa benissimo di cosa parlo ma è molto delicata l'integrazione e il ruolo del preparatore come dicevo prima non è sostituirsi all'allenatore o fare della palacanestro ma è venire in aiuto fornire dei mezzi degli strumenti all'allenatore per cui attraverso i quali gli possa insegnare meglio i fondamentali e quindi la tecnica che dicevo prima di stai basso la posizione la spinta dei piedi la qualità come freno come accelero quanti passi faccio questa componente che non è palacanestro ancora è una piattaforma fondamentale sulla quale basare la palacanestro quindi mi viene da dire che l'agility richiede diverse rapidità se avete capito cos'è l'agility in questa nuova concezione l'agility richiede rapidità di percezione perché per capire cosa sta succedendo devo essere una deve essere un grande avere la grande capacità di raccogliere informazioni dell'ambiente esterno devo avere le antenne molto sviluppate molto pronte le antenne sono la vista il sistema vestibolare il sistema profusettivo devo essere in grado di più ho informazioni precise dell'ambiente esterno più sarò bravo a fare il resto ma oltre la velocità di percezione c'è la velocità di anticipazione che vi ho già detto prima quindi capire prima cosa voglio fare farmi un piano motorio prima che ha molto a che fare anche con tutte le esperienze abbiamo detto no? quindi tante più esperienze ho fatto tanto più i nostri bambini ragazzi hanno esperienze varie tanto saranno più capaci di andare a prendere dal bagaglio motorio quello che gli serve in quel momento avranno più bagaglio e sapranno scegliere più velocemente l'azione che gli serve perché poi alla fine prendo una decisione quindi sono rapido a percepire ad anticipare a decidere e ancora non mi sono mosso solo dopo arrivo l'azione quindi capite che in una la rapidità gran parte della rapidità avviene ancora prima che mi muova noi da preparatori ma immagino anche da allenatori ci siamo concentrati negli anni tanto sull'azione si veloce si forte sposta velocemente ma gran parte a mio avviso viene prima e quindi questa parte qua è decisiva per preparare quelle che voglio fare mi piace dire che da preparatore io voglio ampliare in qualità e quantità la riserva motoria dalla quale i giocatori possono attingere per mettere in atto la soluzione al loro compito cognitivo cioè il campo li mette di fronte a delle scelte io da preparatore e voi da allenatori volete far sì che loro abbiano una possibilità ampia dalla quale attingere rapidamente in maniera qualitativa e quantitativa per risolvere il compito per rispondere alla domanda il campo mi dà quesiti io sono flessibile adattabile e riesco a risolvere i compiti che mi dà questo secondo me è una cosa abbastanza complessa difficile ma è quella alla quale personalmente voglio tendere quando penso ad allenare la rapidità o ad allenare in generale un giocatore ok vado avanti dopo questa questa parte adesso parleremo un po' più di cose un po' più di pratiche e metodologiche ma questa premessa il fatto di essere tutti quanti a casa fermi davanti allo schermo mi ha dato la possibilità di fare un discorso che non posso fare con voi allenatori di solito e spero che vi abbia acceso se non altro qualche curiosità o ho messo qualche dubbio Matteo sentiamo se ci sono delle domande al momento credo di no vale se le tenete per la fine che se ce l'avete ok quindi qualche considerazione metodologica ma queste ci vado abbastanza veloce perché i limiti della rapidità possono essere funzionali quindi un limite in mobilità articolare può influire se un movimento possono essere appunto i limiti cognitivi che abbiamo detto prima possono essere i limiti esecutivi quindi tecnici veri e propri e possono essere i limiti neuromuscolari quindi la cadenza di forza di attività e quindi da preparatori diversi di questi aspetti li possiamo colpire altri sono più territorio dell'allenatore ma i limiti possono essere vari e quindi cos'è che dobbiamo allenare? dobbiamo dare gli stimoli che siano senso percettivi quello che dicevo prima se ricordate prima devo prendere formazione e quegli stimoli sono cose importantissime da allenare da dare stimoli cognitivi il campo mi deve dare stimoli cognitivi perché io possa scegliere stimoli coordinativi assolutamente ne abbiamo parlato finora stimoli neuromuscolari quindi la rapidità vera e propria la forza quello che volete dal punto di vista fisico e tecnici perché ne abbiamo ne abbiamo discusso la motivazione quando iniziare? questa è una domanda che mi viene fatta molto spesso ma la rapidità quando bisogna iniziare? allora si sa la ricerca ci ha sempre detto che l'età sensibile per migliorare questa capacità come tante capacità coordinative perché sì la rapidità è una capacità condizionale quindi una capacità fisica ma avete capito che c'è tanta parte coordinative a un momento d'oro fra i 7 e i 12 anni si dice invece dopo il sistema nervoso fa più fatica a modificarsi e quindi questo è un momento fondamentale concordo pienamente col fatto che a quell'età sia decisivo e importantissimo lavorarci ma c'è anche una bella notizia che si può far qualcosa anche dopo sicuramente sicuramente qua è meglio ok? tutto quello che posso far qua dopo ci metto tanto tanto tempo di più ma non mi devo arrendere perché ci sono queste ricerche che sono fatte soprattutto con anziani perché sapete per la qualità della vita dell'anziano si stanno studiando molto la parte cognitiva la parte del cervello e tutto quanto ecco pare che no pare è dimostrato che la capacità plastica del cervello sia altissima cosa significa? che il cervello e il sistema nervoso in generale è continuamente capace di rinnovarsi cambiare e cambiare attività quindi le aree del cervello che vengono sviluppate per il controllo motorio possono continuare a crescere e a migliorare fino a fine che siamo in vita quindi quelli che pensano ok dopo 12 anni non c'è più niente da fare non è vero quelli che pensano ok allora posso farlo quando mi pare posso saltarlo no perché da 7 a 12 anni fate dei passi in avanti che dopo bisogna di fare principi metodologici li prendo da Francesco perché sono delle pietre migliari secondo me per chi ragiona su cosa fare prima e cosa fare dopo in campo quindi prima cosa prima di muovermi devo stabilizzare quindi saper stabilizzare il movimento saper tenere la posizione è fondamentale per poi mettere in atto il movimento decelerare prima di accelerare quindi se queste capacità devono permettermi di frenare partire frenare partire se io salgo sulla mia bicicletta nuova la prima cosa che faccio è vedere se i freni funzionano e poi vado quindi saper frenare è importante per il controllo prima di accelerare prima in linea poi in altre direzioni prima generale poi specifico prima semplice poi complesso sono tutti quegli aspetti di metodologia e di buonsenso che bisogna sempre ricordarsi quando si scende in campo dobbiamo capire come si muove un giocatore perché io voglio un giocatore rapido ad andare avanti e dietro sì ma anche in diagonale ma anche lateralmente ma anche incrociando ma anche correre con le gambe da una parte il busto che va dall'altra il giro dorsale il giro frontale il salto conoscete meglio di me ma è importante considerare in quale direzione deve essere rapido e quindi la cosa bisogna migliorare tutta la parte di sensibilità dei piedi la funzionalità la postura la frequenza delle azioni il ciclo di accelerazione e decelerazione sono tutte cose fondamentali continuo ad andare rapido perché queste sono cose che mi piacerebbe vedere con voi in campo e se ci sarà l'occasione non lo faremo però capisco che ci vorrebbe un po' di parte pratica e per un esempio di progressione ci sono delle fasi che vanno dalla generale alla tecnica che passano attraverso una fase di sensibilizzazione e quindi sono esercizi di camminate di sensibilizzazione dei piedi di fumicella di rapidità dei piedi di iniziare a capire le direzioni che posso prendere le combinazioni per poi passare a una fase didattica che appunto è quella dicevamo prima didattica ad esempio di come stare in posizione di come iniziare a fare movimenti rapidi con i piedi da queste posizioni perché a noi non interessa essere rapidi col baricentro alto a muoversi sui piedi anzi può essere controindicato insegnare a un giocatore ad essere rapido con i piedi vicini perché io ho qualche dubbio ad esempio ad utilizzare così senza pensarci le scalette di velocità non le speed ladder perché le scalette hanno dei quadretti che sono abbastanza piccoli ci stanno due piedi sì ma per starci per starci due piedi bisogna che questo piede sia qua e sapete bene che se ho due piedi vicino per forza alto baricentro e quindi io le uso le speed ladder uso poco devo dire la verità uso più le linee però quando le uso mi piace usarle ad esempio con un piede dentro un piede fuori uno su una linea e l'altro sulla scaletta in modo tale che io riesca a fare la rapidità di piedi ma da queste posizioni io voglio giocatori rapidi che siano ad abbassarsi ad essere rapido nelle posizioni specifiche perché se insegna uno ad essere rapido con il baricentro molto alto lui si sente sicuro ad essere là quando poi in campo gli dici stai giù bisogna stare bassi da fare la canestra di un sport in cui deve abbassare il baricentro lui non si sente sicuro non è bravo ad andare in quella posizione quindi a discapito inizialmente della rapidità preferisco partire dalla posizione e poi c'è una fase speciale che non vi sto a tradurre gli esercizi ma hanno a che fare appunto con quello che dicevano prima no come metto i piedi per partire per accelerare per frenare dove essere l'appoggio l'avampiede piuttosto che l'autopiede è una fase un po' delicata e tecnica per passare a a fare a secco a provare queste cose portarle in movimenti di gioco perché alla fine la fase tecnica è quella che ci allena realmente alla velocità la fase tecnica che la fate voi è la rapidità nella palacanestro è solamente quella e se iniziate a seguire io posso costruire tutto prima e sono tutti aspetti che prima servono fondamentali e decisivi per portarvi a usare la vera parte di agility che si può attuare quasi solamente con la parte giocata e la parte di sfida 1 contro 1 2 contro 2 55 quindi ho voluto essere abbastanza veloce ma voglio appunto rispondere con quello che ci siamo detti a questa domanda che avevo posto all'inizio e aprirvi adesso altri interrogativi cosa serve un giocatore per essere rapido su un campo di basket abbiamo visto che gli serve capacità percettive cognitive quindi capire cosa succede fuori reagire hanno a che fare appunto con quello che abbiamo detto prima visivo visivo vestibolare riconoscimento del pattern capacità di anticipazione ok quindi tutto quello che ha a che fare sulla percezione e presa di decisione poi le capacità fisiche ne abbiamo visto quindi la forza in tutte le sue componenti la potenza la forza reattiva la stabilità core centrica per stabilità core centrica intendo la stabilità che venga dalla parte centrale del corpo sapete che questa zona qua del corpo si chiama core ed è fondamentale perché se ho un core forte riesco a far passare linee di forza che da sotto arrivano sopra riesco a mantenere le posizioni mentre sotto mi muovo ma il core deve essere forte ma soprattutto stabile coordinato deve sapersi contrarre nei movimenti tecnici quando c'è bisogno perché è il principale aiuto dei movimenti quindi se io scivolo lateralmente ad esempio sono molto forte di gamma molto veloce di gamma ogni volta ho il core debole quindi mi perdo lateralmente il busto e ci metto un secondo per tornare apposta a posto posso essere veloce leggere qualcosa che mi pare il core diventa al limite ma anche qui se ragioniamo in ottica di progressione didattica gli esercizi che tutti quanti ci vedete fare come il plank frontale che serve per il core è solo un inizio di partenza che mi fa percepire il core me lo fa attivare ma da lì c'è un mondo di progressione per arrivare a stabilizzazione dinamica stabilizzazione specifica stabilizzazione con contatti stabilizzazione in movimenti strani stabilizzazione uscendo da un blocco mille cose alle quali devo far capo al core ma per avere una stabilizzazione generale del core poi tecnica generale ok quello che abbiamo visto quindi la capacità di stare in posizione ve l'ho già detto mille volte durante la presentazione ma è quello che mi preme molto i piedi come spingo come appoggio come accedere come deccedere dove metto le spalle dove spingo le spalle quando ruoto mentre corro i movimenti speciali tantissime cose che si possono si devono insegnare per essere più rari per finire la tecnica specifica ok quindi la rapidità è specifica io voglio essere veloce a eseguire fondamentali con palla fondamentali senza palla devo essere rapido a eseguire le abilità che il il giocatore di palacanestro appunto deve 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 ok quindi questo è stato un po' un percorso che ho voluto fare insieme a voi in maniera abbastanza rapida ma spero di essere riuscito a farvi capire i passaggi ok che non tutte queste cose sono importanti quindi se ci siamo concentrati solamente su alcuni aspetti possiamo fare tanto altro quindi la e da preparatori o allenatori si pensava che queste queste rosse fossero probabilmente le cose più più legate alla rapidità e forse le uniche da fare per essere per essere rapidi purtroppo per fortuna non è così e c'è un mondo di roba da fare tanta parte coinvolge voi allenatori direttamente tanta parte ci coinvolge insieme alcune parti sono dei preparatori ma tornando a dire quello che dicevo prima sul lavoro integrato di andrea sulla qua c'è la parte di mini basket che si porta avanti con l'idea di sviluppare le capacità coordinative c'è un po' un disegno generale che ci vuole portare a far sì che i giocatori siano efficienti e rapidi in cap Massimo io ho finito chiudo un attimo la condivisione dello schermo e poi mi dici tu come vogliamo andare avanti se ci sono domande o allora mi inviterei comunque adesso a fare le domande perché credo che abbiamo un po' terminato la lezione di l'argomento di Matteo io vorrei fare una domanda io Max è possibile vai vai posso ciao Matteo sono Giovanni Albanesi volevo fare una domanda ispirata a quei due video che ci hai fatto vedere i giocatori di football americano quegli esercizi dei cambi di elezione sulla sabbia e poi subito dopo quelle capacità di lettura fatte durante la partita volevo dirti appunto queste abilità che hai chiamato fatte sulla sabbia con i birilli sono utili dannose per poi invece essere bravi nelle abilità aperte o vanno fatte prima e poi dopo studiate nella progressione eccetera allora ti vengo a rispondere però ti ha guarda è una domanda ho parlato l'altra volta di questo aspetto e viene subito la la correlazione con abilità chiuse e aperte quindi se mi dai un secondo ricondivido lo schermo e vi faccio vedere un altro pezzettino di un'altra presentazione quella che ho fatto la settimana in veneto in Sicilia perché mi aiuta molto a farvi a parlare appunto di abilità chiuse abilità aperte e poi vengo alla tua risposta alla tua domanda perché è fondamentale questo è un po' il succo e il cuore della della dell'argomento un secondo solo ok potete vedere di nuovo il mio schermo sì ok allora qui questa è una presentazione diversa parlava di capacità di abilità però prendo questo pezzettino per parlarti proprio di questo quindi le capacità sono diverse dall'abilità innanzitutto e adesso parleremo di abilità ma ci sono le capacità che sono capacità di cui abbiamo parlato adesso capacità condizionali che sono la forza resistenza l'abilità e le capacità coordinative che sono tantissime adesso abbiamo parlato di capacità di anticipazione ma c'è il ritmo c'è l'equilibrio c'è la lateralizzazione c'è la capacità di mettere a coppiare due movimenti la capacità di controllo quindi applicare più o meno forza sono mille ma queste ce le abbiamo già innate ok quindi ogni bambino ce le ha poi ovviamente vanno sviluppate perché ce le hai a un certo livello se non le alleni non le sviluppi rimani a una certa base però a sei mesi ogni bambino è in grado di lanciare qualcosa le abilità invece se non le insegni non le potrai mai imparare puoi passare dieci anni indice anni indice anni non è che arrivi in palestra e si attira spezzando il polso e avendo il compito dritto questa parte qua è assolutamente una cosa che va insegnata e non sviluppata detto questo vengo alle abilità ok e le abilità si dividono in abilità chiuse e abilità aperte scusa ho fatto ok aspetta un attimo mi sono inchiodato tutto comunque le abilità le abilità chiuse le abilità aspettate un secondo perché mi sono inchiodato tutto vedete ancora il mio schermo oppure no? no ok scusate ora si ok quindi le abilità chiuse come dicevamo prima rispetto ai codes sono quelle in cui l'ambiente è stabile è prevedibile e il gesto deve essere riprodotto sempre uguale quindi questo che gioca a biliardo si mette lì può aspettare quanto gli pare ha fatto quel tiro un milione di volte sa esattamente dove voleva colpirla e più è bravo a ripetere esattamente quello che vuole fare più il suo li guadagna cioè più il suo colpo è efficace ok e ad esempio possono raggiungere dei livelli pazzeschi le abilità chiuse no? se vedete questo giochino qua che lo fanno in America nelle scuole americane nelle scuole medie americane questo è in tempo reale questo ragazzino è mostruoso in 5 secondi guardate che roba fa no? quindi la sua capacità chiusa di fare esattamente quello che ha programmato sul quale provate a pensare quanto si sarà allenato questo ragazzino per fare questa cosa è mostruoso no? è un'abilità pazzesca però mi viene da pensare che se io gli prendo il bicchiere e lo sposto di un centimetro non ce la fa più perché sei talmente specializzato a far quello e così diventato così bravo a far quello ed è una delle massime esponenti dell'abilità chiuse nella fara canestro negli sposi di situazioni le abilità chiuse sono poche o meglio strettamente chiuse c'è un tiro libero che posso replicare sempre uguale nello stesso modo è vero che c'è un'abilità che sono più simile a quelle chiuse e altre che sono più simile a quelle aperte perché mi viene da pensare che un tiro da tre punti su uno scarico ma qualsiasi tiro da tre punti più è uguale più la forma è sempre simile più la forma è riproduce lo stesso colpo di biliardo o più probabilità a disegnare se vedete Clay Thompson tirare non fa non fa due tiri diversi da vent'anni a questa parte da quanto è efficace a fare la stessa abilità nello stesso modo ok mentre le abilità aspetta tornando a questo poi sono abilità che sono miste non c'è solo l'abilità aperta sono abilità che sono aperte fino a un certo punto e chiuse nel momento finale oppure ho degli strumenti chiusi per fare le abilità aperte le abilità aperte invece l'ambiente è variabile non sono prevedibili non sono codificabili e se quelle chiuse come il tiro come quel ragazzino hanno bisogno di un certo tipo di allenamento perché io per allenare il tiro devo avere la ripetizione non voglio sbagliare devo eliminare l'errore perché se io meccanizzo un errore me lo porto dietro e faccio un danno all'abilità chiusa quindi le abilità chiusa sono ripetitive un artigiano che lavora di fino per fare sempre lo stesso gesto queste invece prevedono l'errore anzi migliorano con l'errore il surfista che surfa l'onda vuole arrivare al limite in cui cade più volte è caduto in passato più potrà arrivare dopo nel punto più difficile e non possono essere codificate derivano dalla presenza dell'avversario nel nostro sport dell'onda nel surf e quindi devono essere allenate con la variabilità il più possibile con la capacità di capire cosa sta succedendo fuori venendo al nostro sport io faccio questa provocazione e dico ok di qua abbiamo probabilmente il miglior palleggiatore che conosciamo su un campo da basket sfido qualcuno a dire che Stephen Curry non è un grande palleggiatore e avrete visto un miliardo di volte le sue routine pre partita nelle quali si allena a fare cose pazzesche ma se vedete quando fa la parte di ball ending per quanto sia veramente molto bravo secondo me qualcuno di voi ha qualche ragazzo che ci si avvicina e se vi mettete ad allenare quella capacità tutti i giorni all'abilità di Stephen Curry che è di livello molto molto alto ci possiamo tendere no? diverso è questo qua che fa cose pazzesche non so neanche come si chiama fa degli esercizi impensabili e per far queste sfido trovatemi qualcuno così abile in questa capacità chiusa in quel modo ok? però si traducono come dicevo prima sull'agini si traducono nelle abilità aperte o meglio come si traducono come vanno tradotte perché dopo Curry in campo fa questa roba qua e quindi la sua abilità di palleggio è un grandissimo strumento che mette al servizio della lettura del momento del movimento del capire come e quando l'agility che dicevamo prima per eccellenza quindi la sua grandissima capacità di ball ending la trasforma la usa come mezzo nel momento giusto e quindi mette insieme una abilità chiusa che è il palleggio a servizio a grande servizio di un'abilità aperta che è quella che poi nel campo per lui è decisiva ok quindi venendo a venendo piano piano a rispondere alla tua domanda qui abbiamo parlato di qualcosa di tecnico e se tu mi chiedi secondo te e io non sono un allenatore quindi potrei essere contraddito ma secondo te bisogna allenare prima le chiuse poi le aperte come ad esempio alcune chiuse come il tiro o il ball ending vanno secondo me allenate però sono di supporto a quelle aperte specialmente all'inizio se tu mi chiedi con un segno o con un under 20 di fare una seduta di tiro se fai 500 1000 3 milioni di tiri secondo me più ne fai meglio è ma con un ragazzino di 13 anni che ancora deve crescere altri 20 centimetri la palla gli pesa e non tirerà da quella distanza sarà biomeccanicamente completamente diverso sicuramente non voglio mettere gli errori che si porterà dietro ma è sbagliato specializzarlo su quell'abilità chiusa che non è la sua ma è importante fornirgli quel minimo di abilità chiusa quel minimo di palleggio di tiro che gli permetta di non essere bloccato nella capacità aperta ho un inciso e finisco per quanto riguarda il code e l'agility quindi quello che correva rapidamente sulla spiaggia e il gioco servono tutti e due perché sicuramente c'è una componente fisica importante che mi viene da essere rapido con i piedi poi sulla sabbia possiamo discutere e non mi piace però rapidità di piedi i codes che abbiamo visto sicuramente hanno danno percezione ai piedi rapidità dei piedi forza posso insegnargli la posizione cosicché sto creando quel volume quel bagaglio di cui dicevo prima in modo tale che quando vanno in campo sicuramente gli serve quindi mi dici ai piccoli secondo me questo genere di abilità chiuse generali sicuramente sono molto importanti a patto che sperimentino le abilità aperte per quanto riguarda quelle tecniche secondo me devono stare un po' più basso con le abilità chiuse molto più basso con le abilità chiuse a favore di quelle aperte e se io costruisco tutta la gamma di qualità aperte avrò vantaggio dopo questo è il mio pensiero quindi per chiudere in pratica quando io organizzo nel mio allenamento una fila di ragazzini col pallone davanti al birillo arrivate qui fate un cambio di mano quando andate a tirare ovviamente sto lavorando sulle abilità chiuse senza nessuno stimolo né temporale né visivo che poi insomma inserirò più tardi per sviluppare poi le abilità aperte e chiudere un po' secondo me hai strategie diverse e se devi lavorare sulla parte funzionale sulla parte fisica vera e propria puoi addirittura semplificare l'esercizio per renderlo più rapido se devi lavorare sulla parte di Polacanese sulla parte cognitiva i ragazzini sono piccoli perché non gli metti già una situazione davanti però questo insomma c'è chi è molto più bravo di me a parlare di questi argomenti super grazie mille Matteo a te chi vuole fare l'altra domanda? mi sembra che ci siano richieste allora faccio una considerazione con Matteo in riferimento a questo periodo perché poi speriamo quanto prima di andare a lavorare secondo te Matteo quali aspetti più importanti potremo cominciare a programmare per ritornare in palestra con i nostri ragazzi che possono essere under 13 under 16 under 18 è chiaro più o meno mi sembra questa è la fascia di ragazzi che più o meno alleniamo ma anche con la prima squadra è chiaro però avendo giocatori più grandi il rapporto è diverso magari con quelli più piccolini facciamo un po' più fatica perché adesso ci dobbiamo noi allenare per tornare in palestra esatto esattamente così allora sicuramente dare delle indicazioni precise è impossibile no? appunto le difficoltà possono essere mille le categorie possono essere mille non sapremo cosa potremmo fare all'inizio quando torniamo in palestra se dobbiamo farle stare distanziati se possono già giocare quando potranno giocare quindi sono cose che ancora non conosciamo però delle indicazioni importanti mi sento di dartele e alcune sono prettamente fisiche e quindi il fatto che siano stati fermi per così tanto tempo io faccio sempre il paragone quando mi viene richiesto non è come se fossero stati fermi nella parte estiva no? tu ti trovi i tuoi ragazzi dopo l'estate li li alleni e inizi da un certo punto ma loro d'estate c'è chi è andato al campetto chi ha giocato a beach volley chi è andato in bicicletta chi ha corso chi ha giocato a guardellati hanno fatto qualcosa i nostri adesso i più bravi che si sono allenati in casa che sono stati allenati in casa però non hanno fatto una corsa un salto un cambio di senso uno scivolamento niente niente per mesi e quindi non sono come fermi dall'estate ma io dico sempre lo dovete considerare come se fossero degli infortunati cioè sono stati fermi per un infortunio adesso riniziano a giocare quindi quando li ritroveremo in campo dovremo pensare a questo ed essere secondo me molto molto pazienti nella gradualizzazione del carico sicuramente perché devono riadattarsi al carico ma quando ha riallenato un giocatore dopo si è infortunato di solito voi siete da allenatori siete molto più indulgenti no? c'è la squadra che va il ragazzino è stato fuori due mesi tre mesi se se fa un errore se sbaglia una cosa dai incoraggiate lo portate avanti pensate che voi avrete una voglia matta di allenare e tutti i ragazzini saranno tutti i ragazzi saranno in quella in quella situazione perché tutte le quelle capacità di cui ho parlato prima le coordinative la parte raffinata del talento il tempo di un passaggio la lettura il muovermi i movimenti particolari sono disallenate e quindi dategli la pazienza dategli la possibilità di sbagliare perché se no si frenano non abbiate la fretta che tutto torni come prima perché se no vi frustrate voi perché siete frustati perché cavolo non mi viene niente questi sono andati indietro sappiatelo da adesso che questa parte fisica che riprenderanno tranquillamente con un po' di tempo ma coordinativa e tecnica avrà fatto due tre passi indietro e non sarà per tutti uguale c'è chi farà prima riacquistarla chi ci metterà un po' di più quindi permetteteli di esplorare avranno voglia di andare in mezzo a un campo avranno voglia di muoversi di fare quantità di movimento di fare qualche errore permettete di farglielo perché secondo me è quella la parte che altrimenti potrebbe in questo momento frenare voi o frenare loro per quanto riguarda invece la parte fisica prettamente detta la condizione si riprende la forza si allena ci vorrà un po' di tempo attenzione a non spingere troppo forte subito perché per quanto siano magari giovani i vostri la parte tendinea la parte articolare se non è sollecitata per un lungo periodo è un po' a rischio all'inizio quindi iniziamo con la gradualità del caso per salvaguardare appunto la componente di salute bene grazie 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 Matteo se c'è qualche altra domanda bene se no liberiamo Matteo è stato veramente chiaro preciso di una lezione che avevamo già fatto io e Luca nell'ultimo corso però è stato un bel rispolverare idee e situazioni più approfondite sì c'è Andrea vai Andrea fa la domanda no Andrea saluta ha salutato tutti i golfo ah ok bene allora liberiamo Matteo se no se non ci sono domande io ringrazio Matteo per questo intervento ringrazio tutti i ragazzi che sono intervenuti ad ascoltare questa chiacchierata e non abbiamo in programma prossimamente un'altra lezione fra due settimane credo però non vi anticipo nulla di conseguenza invito a osservare sul sito CNA oppure su Facebook che pubblichiamo tutto per la nuova lezione giusto Silvano? giustissimo bene buonasera da tutti grazie ancora Matteo per la partita grazie a voi speriamo di vedersi in campo sì speriamo grazie e buonasera a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao Matteo grazie Matteo ciao a tutti ciao a tutti ciao Matteo buonasera grazie grazie